Venerdì 25 ottobre 2024, buongiorno buongiorno a tutti con una singola novità che però vale un po' come si dice l'intero pacchetto. Ieri sera Apple, attorno alle 18, ha comunicato che la prossima settimana, quindi a partire dal lunedì, sarà una settimana di annunci. Annunci dedicati esclusivamente ai nuovi Mac. E questo lo sappiamo, non è certo una sorpresa, sono perlomeno 20 giorni che io costantemente due volte a settimana vi rompo le palle sul fatto che i nuovi Mac stanno arrivando. Quindi qual è la sorpresa? Prima di tutto non abbiamo un evento, ma abbiamo una serie di comunicati stampa e la stessa Apple è rimasta un po' sul vago dicendo è una settimana di annunci. Quindi non ci aspettiamo un singolo comunicato di lunedì o martedì, ma ci aspettiamo più comunicati nei vari giorni. E questo ha anche senso, ha anche senso perché sappiamo che di carne sul fuoco ce n'è diversa. Prima di tutto, lo sappiamo, i MacBook Pro. Sono trapelati qualche settimana fa i vari video unboxing e ci aspettiamo tre modelli. Un modello base da 14 pollici che passerà dal chip M3 al chip M4 al 99% dei casi con 16 giga di memoria RAM unificata. Bene o male circa allo stesso prezzo dell'attuale modello con l'M3 e dovrebbe avere addirittura anche la stessa scatola, la stessa grafica. Proprio perché sono anni che Apple quando refresha semplicemente all'interno, dato che non ci saranno cambiamenti estetici, lascia anche la stessa scatola. Lo abbiamo visto anche con il passaggio dal MacBook Pro 13 pollici M1 al modello M2. Era proprio la stessa confizione paro paro. Ci aspettiamo poi i veri MacBook Pro 14 e 16 pollici sia con M4 Pro che con M4 Max. E l'incognita in questo caso è se l'M4 parte da 16 giga, l'M4 Pro partirà da 24? Sarebbe interessantissimo e allo stesso prezzo sarebbe un affare. Senza ombra di dubbio sappiamo che l'M4 dovrebbe essere il primo reale cambiamento sia dal punto di vista dei consumi sia dal punto di vista delle performance dall'epoca dell'M1 del lontano 2020. In quanto sia l'M2, ad esempio io ho un iPad Air, sì ho comprato la custodia originale, ho trovato a sconto, sia il mio MacBook Air M3 non sono altro che degli M1 leggermente potenziati. Ma a livello di esperienza non cambia più di tanto. Mentre l'M4 appunto è basato abbastanza un po' su sempre la stessa architettura per carità ma un po' una nuova concezione dedicato a cosa? Indovinate Apple Intelligence. Quindi lunedì potrebbero arrivare questi MacBook Pro. Martedì potrebbe essere il giorno giusto invece per l'iMac M4 e anche qui vi spengo le speranze non cambierà praticamente niente. Nel senso che il design dell'iMac, i pollici dello schermo, la composizione sarà esattamente la medesima sia del modello M1 sia del modello M3. Cambierà appunto l'arrivo del chip M4 e di conseguenza si crede sia 16 giga di RAM di base che si spera 512 giga di base su un computer fisso ci starebbero. Ci potrebbero essere qualche nuove colorazioni però non vi aspettate delle grosse rivoluzioni, le cornici dovrebbero essere comunque bianche, non grandi cambiamenti. Quello che invece cambierà saranno le periferiche. Tastiera, mouse e trackpad finalmente con la porta USB-C. Si sta parlando di una novità che dovrebbe essere la normalità e la domanda è dal momento che hanno messo mano al Magic Mouse con questa ricarica assurda, con questo design assolutamente per niente ergonomico. Sarà la volta buona di vedere realmente un Magic Mouse 2 che non solo passi dalla Lightning all'USB-C ma anche con uno nuovo design? Risposta mia personale no, io mi aspetto semplicemente che adottino l'USB-C. Un po' come hanno fatto il passaggio dalle AirPods Max alle AirPods Max aggiornate, quindi cambierà solo quello. E poi mercoledì invece potrebbe essere la volta buona di questo fantomatico Mac Mini che sappiamo sarà la star di questo aggiornamento proprio perché non solo passerà dall'M2 all'M4 e di conseguenza dall'M2 Pro all'M4 Pro ma esteticamente dal 2010 cambierà estetica. Dovrebbe essere, lo sappiamo, molto più piccolo, si parla del 40% in meno, alto forse leggermente di più per mantenere una piccola ventola passiva, sarà disponibile in configurazione M4 ed M4 Pro, dovrebbe avere perlomeno due porte USB-C frontali, dovrebbe perdere il supporto alla porta USB-A e mantenere comunque l'alimentatore integrato, in modo tale di non avere scatolotti sparsi per le scrivanie e sarà dal mio punto di vista il prodotto più interessante. Perché? Perché se avete un MacBook Pro con l'M3, qualsiasi modello, o M3 Pro o M3 Max, cambiarlo non c'ha senso. Se avete un iMac con l'M3, cambiarlo con un M4 non ha senso. Il Mac Mini invece, se lo avete comprato a inizio di quando è uscito l'M2 e lo volete cambiare, dall'M2 all'M4 le cose potrebbero cambiare sensibilmente. Oltre al fatto, vi ripeto, che è probabilmente l'unico Mac Pop, quindi al di fuori del Mac Pro, che non subisce un redesign estetico veramente da più di un decennio, quindi tendenzialmente potrebbe essere interessante. Mi piacerebbe tantissimo avere Mac Mini colorati, un po' come l'iPad Air, un po' come l'iMac, secondo me ci starebbe alla grande. Sono interessato all'acquisto di uno di questi prodotti? No. Io quest'estate ho cambiato l'iPad, ho cambiato il MacBook, sto benissimo così. Potrei essere interessato ad acquistare il Magic Trackpad USB-C per utilizzarlo sia come postazione fissa sul mio Mac, sia soprattutto con l'iPad con Stage Manager, perché io in questo momento ho uno schermo che mi fa da regia ed ho uno schermo dedicato a Stage Manager. Sono un malato di mente, ma questo è. Quindi noi ci vediamo direttamente lunedì, a questo punto saltiamo a pie pari l'appuntamento della mattinata di lunedì e ci vediamo magari nel primo pomeriggio, di solito questi comunicati arrivano verso le 15, 15 e 30, e quindi ci vediamo lunedì parlando eventualmente di qualcosa, uno dei tre esce. Dal mio punto di vista vi ripeto, MacBook Pro, iMac, Mac Mini. Credo che i comunicati finiranno con il prodotto più nuovo, con l'aggiornamento più grande. Ditemi la vostra, ciao!